Ragazzi, vedete un po' che cosa abbiamo fatto? Allora, gennaio, febbraio, marzo, aprile, attila, maggio, giugno, luglio, attila, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Avete visto che belli? Questi sono i nuovi calendari che abbiamo fatto per Santa Maria Capavetere, dove tutti quanti voi, insieme a noi, potete essere parte attiva di questo progetto e riuscire a fare qualcosa per Paupisi, che si trova in provincia di Benevento, che è stata attaccata dall'ultimo alluvione. Noi non vogliamo dimenticare, per questo motivo noi facciamo con il cuore, quindi con questo calendario, che costa solamente 5 euro, un contributo minimo, riusciamo a fare qualcosa insieme. I calendari li potete trovare nelle attività commerciali che hanno esposto questo cartello, oppure li potete trovare presso tutti i nostri associati, sia quelli che avete visto inquadrati prima, e sia anche gli altri che voi conoscete, riconoscete, ormai siamo tantissimi associati, oppure venite qua in sede, ci siamo di sicuro ogni mercoledì dalle 18 alle 20, via Pierantone numero 54. Per gli amici che risiedono fuori da Santa Maria Capavetere, quindi anche all'estero o in altre parti d'Italia, ci potete contattare nel calendario, ve lo spediamo. A presto ragazzi! A presto!